Pronti per un altro appuntamento con Starbene in TV, come ho annunciato precedentemente l'ospite il dottor Giulio Rocco della struttura complessa di igiene e sanità pubblica dell'Answitz, grazie dottor Rocco per essere tornato a trovarci per parlare di influenza, per parlare anche di come sta andando e per darci altri spunti di riflessione per quanto riguarda la campagna anti-influenzale. Io ho fatto il vaccino, credo sarà un tre settimane fa, già più tardi rispetto ai soliti standard. Diciamo, intanto vediamo, l'influenza è arrivata, è già arrivata, quindi è in anticipo rispetto a quanto si pensava oppure si sta comportando bene nel senso che non sgarra i tempi secondo? Sì, in effetti anche poi ho letto alcuni articoli, diciamo anche dei giornali di questi giorni dove si parlava di questo anticipo possibile, quindi dell'influenza. Ho controllato i dati quelli dell'Istituto Superiore di Sanità che sono pubblicati, c'è un report settimanale, il report del 4 di dicembre prende in considerazione la settimana diciamo dal 24 al 25 di novembre al 1 di dicembre. In quella settimana ci sono stati stimati circa 150.000 casi quindi di sindrome influenzale che hanno portato quindi a 750.000 i casi stimati diciamo dall'inizio diciamo di questa sorveglianza. Effettivamente il numero dei casi è leggermente maggiore diciamo del numero di casi che c'era nel periodo analogo della precedente stagione. però è di poco diciamo superiore quindi è difficile prevedere se ci sarà effettivamente un anticipo diciamo a fine dicembre ecco del picco dell'influenza oppure la circolazione dell'influenza si comporterà come la maggior parte degli anni e quindi diciamo il picco ci sarà, la fase acuta, la fase diciamo del numero di casi diciamo più alto ci sarà a fine di gennaio, all'inizio febbraio insomma. Che più o meno? Che diciamo nella maggior parte delle stagioni influenzali si è comportato così eccetto alcune in cui c'è stato un forte anticipo anche. E' anche vero questo no dottore che molto spesso il termine influenza è utilizzato diciamo con eccessiva mi vorrebbe dire liberalità nel senso tanti dicono è a letto con l'influenza in realtà non è sempre l'influenza stagionale. Infatti insomma il Ministero della Salute quest'anno è stato anche più preciso diciamo nella campagna di informazione c'è una campagna quindi proprio informativa fatta addirittura su YouTube sulla parte sulla sezione YouTube del Ministero della Salute dove dà tutta una serie di informazioni anche questa sui falsi miti diciamo no della sull'influenza e uno di questi è il fatto che il vaccino non funziona perché magari la persona si è ammalata comunque durante l'inverno. Allora la questione è che il vaccino naturalmente protegge solamente contro il virus dell'influenza anche qua poi in maniera variabile a seconda delle stagioni per sempre dipendente dal fatto di quale sia il match tra i ceppi di virus influenzali circolanti e quelli che sono stati inseriti nel vaccino con la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma ci sono virus parainfluenzali che circolano nella stessa stagione per esempio il rinovirus diciamo che provoca raffreddore insomma comune ma anche diciamo il virus inciziale respiratorio è un virus che circola in questo periodo e può essere anzi pericoloso sia per i neonati che per diciamo le persone che hanno un'età maggiore diciamo 65 anni ci possono essere casi gravi. quindi diciamo il vaccino protegge solamente contro l'influenza che però diciamo è quell'infezione che nella stagione diciamo è molto pericolosa perché può portare quindi le persone che hanno patologie croniche ad avere delle complicanze. Vediamo se riesco a formulare questa domanda in maniera comprensibile. Fondamentalmente appunto l'influenza arriva, il picco dell'influenza nel nostro paese si raggiunge verso il fine gennaio, inizi febbraio, certo. E arriva da altri paesi, cioè nasce sempre nello stesso posto? Beh l'influenza in realtà è diciamo in circolazione continua nel senso che nel periodo dell'estate diciamo per esempio i paesi diciamo dell'emisfero sud per fare un esempio l'Australia quindi ha l'attività diciamo influenzale e anzi è proprio da questi paesi... Ma su quello è detto così. Esatto, è proprio infatti il monitoraggio continuo che c'è diciamo sui determinanti antigenici quindi dei virus che circolano nel periodo quindi contrario all'emisfero nord, cioè nell'emisfero sud e quindi servono diciamo proprio poi a dare le informazioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità per stabilire quali devono essere diciamo i ceppi vaccinali. Quindi è in continuo movimento. E infatti di solito le notizie sulla diciamo la forza o meno del virus cominciano a circolare intorno a settembre più o meno quando... Sì, anche prima perché in effetti appunto si va a verificare come si è comportata l'attività diciamo del virus dell'influenza nei paesi che hanno nel periodo estivo praticamente l'attività del virus. Il vaccino è uno degli strumenti con cui affrontare, cioè diciamo è lo strumento migliore per affrontare il picco influenzale. Però insomma è anche io, facciamo una domanda qui, se qualcuno non si è vaccinato come può diciamo così attrezzarsi al meglio in previsione poi del picco che arriva? Certo. Allora proprio appunto nella campagna di comunicazione del Ministero della Salute quella che ho citato su YouTube il messaggio dà le solite informazioni cioè su come ci si può proteggere diciamo no? E si può prevenire quindi l'influenza se non si è vaccinati e anche comunque le persone vaccinate perché l'efficacia diciamo del vaccino è variabile e quindi sicuramente usare il fazzoletto quindi quando si tossisce per chi è malato quindi quando si tossisce, quando si ha uno starnuto sicuramente fa in modo quindi di non diffondere diciamo no? L'infezione. E la stessa cosa invece per chi diciamo diciamo sia per il malato, già malato di influenza, sia per gli altri il fatto di lavarsi spesso le mani, di lavare le mani quindi prima di toccare diciamo una mucosa della bocca o del naso ecco questo sicuramente diciamo è una misura che veramente è considerata molto efficace e il fatto è che viene poco applicata Ma per esempio quegli affari che si possono portare a presso tipo i disinfettanti per mani Sì, quando non c'è la possibilità di lavarsi le mani per questioni logistiche sicuramente anche diciamo il fazzolettino diciamo imbevuto di disinfettante può essere questo Io ricordo un'intervista con il professor Montagnier dove non si parlava di AIDS ma si parlava insomma di igiene in generale e mi ricordo che in questa intervista lui disse non avete idea di quanto si possa prevenire semplicemente lavandosi le mani E infatti diciamo ogni anno tutti i documenti tecnici e documenti anche informativi del ministero ribadiscono questo tipo diciamo di misure comportamentali ma quest'anno addirittura anche nel messaggio proprio di comunicazione diciamo è stato dato È vero anche che nelle strutture ospedaliere e anche in sede vostra ci sono sempre più, come si chiama, quei dispenser per lavarsi le mani ci sono anche le indicazioni per lavarsi le mani Esattamente, ormai diciamo una misura che è stata adottata diciamo in tutte le strutture sanitarie E per esempio se uno prende l'influenza perché non si è vaccinato eccetera poi dopo cosa deve fare? Lascia che passi? Ecco e anche su questo aspetto il ministero della salute appunto nella campagna di comunicazione è stato chiaro quindi chi si ammala del virus dell'influenza dovrebbe rimanere a casa perché altrimenti diventa veicolo insomma e si moltiplicano quindi e si moltiplica la trasmissione diciamo dei casi e quello che è importante è stato proprio anche molto ben precisato dal ministero non utilizzare gli antibiotici se non c'è effettivamente un'indicazione diciamo del medico perché possono essere controproducenti sappiamo tutti che danno gli antibiotici sono diciamo una fonte diciamo di poi resistenze quindi si possono creare quindi delle condizioni di resistenza e quindi persone che poi hanno necessità di antibiotici per infezioni diciamo di altro tipo diciamo non hanno più la possibilità diciamo di utilizzare alcuni antibiotici quindi sicuramente il virus influenzale appunto non è in nessun modo intaccato diciamo dall'antibiotico che funziona sui batteri casomai ma non sui virus e quindi è inutile usarlo a meno che non ci sia poi una sovrainfezione batterica ma questo è il medico che poi deve valutare quindi là uno adesso senza far nomi eccetera c'è la tachipirina sicuramente sì gli antipiretici, antinfiammatori, antidolorifici possono essere utilizzati proprio per i sintomi quindi per alleviare i sintomi dell'influenza allora c'è per quanto riguarda invece il vaccino c'è un obiettivo c'è una percentuale di copertura che il Ministero della Salute ritiene sia la percentuale ideale per certo e diciamo i piani nazionali, il piano nazionale vaccini e diciamo anche tutti i documenti del Ministero della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di un obiettivo minimo di copertura vaccinale del 75 per cento ma in realtà nel diciamo nella 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 parte diciamo della popolazione che ha una delle patologie croniche che quindi fa parte del target principale proprio della campagna vaccinale lì la copertura vaccinale dovrebbe essere quindi del 90 per cento 95 anzi per cento in Europa anche anche il centro europeo quindi no delle malattie che l'Sdc ha già dal 2010 indicato l'obiettivo minimo del 75 per cento e per dire la verità ai paesi europei solo una metà è riuscito ad avere in questi anni una copertura maggiore di un terzo e degli negli anziani una copertura vaccinale quindi un'adesione alla campagna vaccinale maggiore di un terzo e un paese in particolare i paesi bassi sono riusciti a raggiungere 75 per cento ma l'altra metà dei paesi siamo addirittura un terzo proprio della della popolazione ultra 65 anni che che ha aderito alla alla vaccinazione è anche vero no dottore che molto spesso quando si ci sono come dei falsi miti che 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 sono stati scatenati negli anni che poi forse possono essere anche delle interpretazioni sbagliate di frasi pronunciate no del tipo ti fai il vaccino e poi stai male lo stesso perché in alcuni casi chiedo scusa in alcuni casi il vaccino può creare una rapida ti dicte lo dicono anche se è un disturbo c'è un po di temperatura più alta dei sintomi tranquillo e quindi il ci sono una serie di credenze tra cui appunto questa cioè che il vaccino possa esso stesso provocare sì addirittura i disturbi simili o dare l'influenza il virus e il vaccino è composto da un virus disattivato addirittura dai componenti proprio antigenici diciamo no del virus quindi non c'è niente di vitale diciamo nel virus quindi impossibile che possa dare diciamo una malattia è chiaro che può dare invece nelle tre giornate diciamo prossime no dopo a seguito della vaccinazione questo senso di malessere qualche volta anche una febbre e quindi molte persone interpretano magari che hanno avuto che hanno avuto un'influenza praticamente no invece sono semplicemente degli effetti collaterali e quindi del vaccino che sono ben controlla dove se non ricordo male ma questo è il paziente che deve dirlo eventualmente al medico eccetera non è il caso di farsi vaccinare quando si ha comunque un'infreddatura o qualcosa del genere io mi ricordo che in alcuni casi ti prendono anche la temperatura prima di fare una diciamo una situazione di salute non non diciamo non non buona e quindi con però per esempio una febbre oltre 38 38 5 o comunque diciamo una malattia di media gravità può essere un motivo di diciamo posticipazione della della vaccinazione in realtà lo è non perché il vaccino potrebbe provocare qualche danno o potrebbe essere meno efficace ma perché gli effetti collaterali del vaccino si vanno a sommare a già un malessere quindi di base e quindi poi non si non si ben capisce se c'è un peggioramento diciamo della malattia di base oppure no ma in generale insomma i vaccini veramente una persona deve stare male per per non poterli per non poterli somministrare ci sono due argomenti che si ce la facciamo a trattare il primo vaccino e gravidanza ecco questo è anche una novità per esempio della della circolare ministeriale di quest'anno dei documenti di indirizzo di quest'anno cioè la donna in gravidanza dovrebbe essere vaccinata e raccomandato che sia vaccinata in tutti i trimestri della gravidanza non quindi solamente nel secondo e terzo trimestre come era previsto diciamo nella circolare del dell'anno precedente e così il ministero della salute e l'autorità sanitaria del nostro paese si allinea alle altre autorità sanitarie del canada diciamo del degli stati uniti diciamo ma anche di diversi dei diversi paesi europei quindi noi abbiamo infatti in questi giorni donne in gravidanza in tutti i trimestri che vengono diciamo a vaccinarsi e questo è molto importante la categoria delle donne in gravidanza la mette in evidenza anche proprio diciamo l'organizzazione mondiale della sanità la considera una delle categorie dove c'è un maggior rischio di complicanze sia per la madre perché il c'è ricovero diciamo ospedaliero e il vaccino riduce di circa il 50 per cento il rischio di ricovero diciamo della donna in gravidanza con l'influenza e poi riduce il rischio del distress diciamo fetale del parto prematuro del del basso peso alla nascita e tutta una serie veramente di complicanze che può avere diciamo la donna nella fase diciamo ultima anche della gravidanza e dà la possibilità al neonato di avere degli anticorpi trasmessi in maniera passiva diciamo dalla madre e il neonato diciamo è molto suscettibile vulnerabile all'infezione della della del virus dell'influenza può avere diciamo una compromissione anche importante dell'apparato respiratorio e può avere delle otiti anche importanti e quindi diciamo nei primi mesi quando comunque il neonato non potrebbe essere vaccinato fino ai sei mesi non esiste la possibilità ancora di un vaccino autorizzato diciamo ecco e agli anticorpi diciamo per poter essere protetto bambini e vaccinazioni ecco l'argomento i bambini e vaccinazioni anche qua nella circolare ministeriale è strutturata in maniera diversa rispetto agli anni precedenti proprio nella nell'introduzione diciamo della circolare si dice chiaramente che tutte le persone che hanno un'età appunto superiore ai sei mesi di cui parlavo prima hanno come raccomandazione la vaccinazione influenza una cosa è la raccomandazione altra cosa è l'offerta vaccinale attiva e gratuita questa in realtà è dedicata come noto diciamo alle categorie quindi di persone che hanno le patologie croniche oppure per età però è già importante che la circolare esordisce diciamo in questo senso e cita tra l'altro le disposizioni di altre autorità sanitarie degli altri paesi anche europei per esempio l'austria la finlandia e la gran bretagna dove invece già c'è l'offerta attiva e gratuita per i bambini diciamo agli adolescenti nella circolare però è importante che si focalizza ancora più in maniera più precisa il fatto che i bambini quindi non che sono contatto di persone adulte magari o di altri coetanei che hanno delle patologie importanti croniche devono essere vaccinati diciamo e questo non solo per i diciamo i contatti proprio della famiglia dentro l'abitazione no non è necessario che siano diciamo questo tipo di contatti ma anche dei contatti meno costanti diciamo ma che naturalmente possono portare la persona fragile ad avere un'esposizione al virus dell'influenza ultima domanda credo come la mettiamo con le persone che soffrono di malattie croniche tipo per esempio diabete cardiopatie eccetera ecco e fanno parte delle categorie appunto che per cui è importante vaccinare posso diciamo citare che per esempio diciamo le persone che sono cardiopatiche hanno dieci volte di più il rischio diciamo di una persona comune di andare incontro a una forma severa quindi di influenza e gli studi anche più attuali hanno mostrato come ci sono proprio del vengono rilasciate delle citochine pro infiammatorie e dei fattori protrombotici durante quindi nel corso dell'infezione diciamo da virus dell'influenza che quindi possono portare quindi alla complicanza e anche le persone che sono diabetiche hanno un 3-6 volte di più diciamo rischio di andare incontro ad un ricovero ospedaliero e 6 volte diciamo rischio di andare incontro diciamo ad una complicanza grave questi dati sono ormai documentati e quindi si cerca di dare l'informazione a queste persone veramente di fare la vaccinazione ancora tempo lei è molto veloce nelle risposte per cui bene così possiamo ancora immunodepressi pazienti immunodepressi ecco anche questo è un altro capitolo perché spesso le persone temono diciamo di non poter fare la vaccinazione perché assumono farmaci che deprimono il sistema immunitario perché hanno delle patologie importanti che possono dare depressione ma la circolare stessa dice nel testo che questa è una delle categorie proprio da dove è raccomandata la vaccinazione e questo perché intanto come si diceva prima il vaccino è un virus inattivato e quindi ho i componenti diciamo antigenici e quindi non c'è nessun rischio si può fare la vaccinazione con sicurezza diciamo e la vaccinazione può comunque contribuire magari in misura minore rispetto a una persona che ha un sistema immunitario efficiente diciamo ma sicuramente contribuisce a proteggere una persona fragile da un'infezione virale ancora donatori di sangue ecco i donatori di sangue è un'altra categoria che già da due anni è stata posta diciamo all'attenzione della circolare ministeriale noi abbiamo in Italia un milione ottocentomila diciamo circa donatori di sangue è importante che nei mesi di gennaio di febbraio non ci sia una carenza di sacche di sangue perché sono dei mesi che se no diventano critici per quanto riguarda la gestione del sistema proprio sanitario nazionale insomma regionale perché naturalmente nell'emergenza quindi nel trauma da incidenti come nelle interventi chirurgici sono necessarie diciamo le trasfusioni e quindi questo di vaccinare le persone che per fortuna donano diciamo di routine il sangue fa in modo di non avere delle carenze quindi è molto importante questa promozione per i donatori ultimissima perché poi adesso è consigliato vaccinarsi fino ancora a quando? cioè i ritardatari hanno tempo fino? la campagna vaccinale si chiude insomma il 31 di dicembre ma in realtà insomma sempre neanche nelle stagioni precedenti si è dato indicazioni ai medici di medicina generale di vaccinare le persone quindi che magari sono entrate diciamo in un percorso di diagnosi di una malattia importante che quindi diventa una persona fragile diventa una persona vulnerabile e quindi siccome non abbiamo ancora certezze di quando ci sarà il picco diciamo dell'influenza è sufficiente avere quei 15 giorni diciamo per essere protetti dottore grazie per essere stato con noi il dottor Giulio Rocco fa parte della struttura complessa di igiene e sanità pubblica dell'Aswitz Starbene in TV torna la prossima settimana noi con Trieste in diretta torniamo lunedì alle 17.30 ricordatevi che oggi è venerdì quindi alle 21 c'è anche Ring grazie a tutti e grazie ancora al dottor Rocco per essere stato con noi buona serata grazie a voi per l'invito grazie grazie a tutti grazie a tutti